Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi lunedì video delle analisi settimanali sui mercati delle criptovalute ma ho deciso di fare anche un'altra cosa ancora più bella, oggi faremo un video operativo andiamo a guardare quali sono le aree di alert buy, io le ho chiamate così, ora vi spiegherò anche all'interno del video cosa sono andiamo a guardare le aree di alert per quanto riguarda il mercato di bitcoin, ethereum e binance come sempre perché dalla scorsa settimana alcuni di voi mi hanno commentato il video delle analisi dicendomi che era un momento giusto per comprare era un momento giusto perché i prezzi erano scesi abbastanza, allora mi è venuto in mente di fare questa cosa andiamo a guardare effettivamente se queste coin, se queste criptovalute sono nell'area di alert buy voi sapete che io non compro contro trend quindi il mercato è ancora in trend discendente perciò io non comprerei mai, ho una tecnica che utilizzo per fare questo tipo di shopping, chiamiamolo così, a sconto tra virgolette e userò quella se capiterà ma prima di passare all'interno di questo video e andare a guardare quali sono i livelli che dobbiamo monitorare per quanto riguarda bitcoin, ethereum e binance vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi chiedo anche ragazzi un mi piace per i video perché sono importanti per il canale youtube e per il lavoro che sto facendo e poi come sempre scrivetemi nei commenti quali sono le vostre strategie e soprattutto quali sono i vostri dubbi in merito per esempio a questo momento di mercato perché è un momento concitato e badate bene magari fra qualche mese ci troveremo a parlare di questo momento come un momento particolare magari lo vedremo in futuro spostiamoci sui grafici allora bitcoin davanti a me ragazzi l'analisi ciclica che stiamo seguendo vedete già indicata la mia alert buy area tengo a specificare che cos'è l'alert buy area intanto ragazzi sul canale trading on non ci sono consigli finanziari quindi no consigli finanziari ma semplicemente delle idee di formazione che valutiamo insieme l'alert buy area è un livello sul quale il prezzo di una crypto, di una coin in questo caso bitcoin, lo vediamo dal grafico può essere ritenuto accettabile senza che il trend di lungo periodo venga modificato e diventi negativo ragazzi va bene lo ripeto se volete alert buy area livelli di prezzo che sono accettabili e molto bassi sotto i quali viene messo in grave difficoltà il trend di lungo periodo delle coin quindi diventa estremamente poi rischioso andare a fare buy quindi le alert buy area sono i prezzi a sconto parliamo così in questi termini ragazzi sono i veri prezzi a sconto da un punto di vista tecnico il mercato ci arriva non è detto che ci arrivi assolutamente ragazzi ma vedremo dopo la fine del video che alcune coin non vi svelo tra quale delle due tra Binance ed Ethereum è già sui livelli di buy area e questo non è un bene a dire la verità perché è un estremo e la reazione non sembra molto importante ma la vedremo tra poco quindi vi ho spiegato come vanno considerati questi livelli andiamo sui grafici e vediamo l'analisi ciclica intanto analisi ciclica ragazzi la view che stiamo seguendo ancora è che in questa fase il 25 novembre sia stato fatto un minimo di metà ciclo da 50-60 giorni e che l'altra fase quindi il nuovo minimo ragazzi è inutile girarci intorno perché se questa è una fase non chiusa ma è un ciclo intero il mercato romperà i minimi del 25 novembre e probabilmente andrà a ritestare il primo livello di supporto che vi ho indicato qui ed è essenzialmente 6400 quindi 6400 ma poi c'è la buy area che sta tra i 6000 e i 5200 ragazzi solo qui il mercato di bitcoin può essere considerato con prezzi accettabili a prezzi bassini bassini diciamo ecco poi se da qui il mercato andrà a dimostrare forza da un punto di vista di inversione di trend di breve allora io ragazzi farò i miei giochini magici io e tutti gli amici dell'academy perché di questo ne parleremo ne parliamo sempre anche lì che sono trader operativi quindi solo a questi livelli di prezzo ragazzi potremmo cercare di analizzare ecco magari degli acquisti che siano non a breakout che non siano non a rottura di livelli importanti di resistenze bensì anche ad altro perché il mercato magari avrebbe dato ma ci sono diverse tecniche per utilizzare le buy area ci sono diverse tecniche per entrare in quei mercati che scendono e delle strategie che sono molto utili per non rompersi la testa e soprattutto cavalcare l'opportunità perché poi ragazzi se il mercato arriva effettivamente a questo livello e poi riprende un trend long questo livello sarà una grande opportunità di buy area il problema è che non lo sappiamo il trader deve gestire quel rischio lì quindi da un punto di vista ciclico quello che sembra è il rispetto di questa figura quindi un uomo a minimo tra poco non è detto che lo fa il mercato ragazzi perché a volte nelle fasi finali concitate ci dà dei buoni risultati quindi io ho la mia strategia di riserva e non venite qui a dirmi che dico sempre due cose perché il trader dice sempre due cose perché deve prepararsi a due cose deve prepararsi a tante eventualità ragazzi ok non è un acquisto a scatola chiusa è una professione è un'attività di investimento per cui bisogna valutare non avere ragione è un discorso differente allora il livello di ingresso sulla forza è la rottura della resistenza a 8000 dollari ma io ho 4 trading system sviluppati su questo mercato che sono lunghi in attesa di entrare quindi i miei trading system entreranno sicuramente se il mercato darà segnali di forza e io seguirò i miei trading system ve lo dico in maniera molto chiara quelli che pubblico anche nella academy i livelli di resistenza sono 8000 per il breve 9000 quella di medio termine solo al di sopra di questo livello di canale che è questo qui ragazzi il canale che dovete vedere questo qui il canale discendente vedete della trend solo al di sopra di questo livello il mercato inverte di breve termine addirittura ragazzi quindi balate bene e solo al di sopra dei 10 11.000 dollari inverte di lungo periodo ok medio lungo periodo va bene ok andiamo adesso a spostarci su ethereum per vedere qual è la buy area di ethereum la buy area di ethereum ragazzi è tra 138 e 115 quindi la buy area di ethereum è stata già raggiunta però il mercato ancora stenta una fase di ripresa attenzione perché non sappiamo se questo minimo di ethereum il 25 novembre sia stato o meno il minimo definitivo che ha chiuso questa fase ciclica che io vi avevo anche indicato dicendovi di stare attenti se vi ricordate quindi avevamo proprio indicato alla perfezione questa fase ciclica quando sappiamo se questa fase ciclicamente può appartenere a un nuovo ciclo e poi andremo a vedere se sarà rialzista ribassista se è un nuovo annuale lo vedremo con calma sul canale ragazzi allora se il mercato sale al di sopra della resistenza 1 160 già una risalita al di sopra di questo livello di resistenza qui questo ragazzi una risalita qui indicherebbe in questo caso che ethereum possa essere in un nuovo ciclo poi andremo a vedere cosa dove come quanto altrimenti la possibilità del livello di test sui 128 quindi il primo supporto ciclico resta operativa 128 che è il centrale della buy area di 138 115 questi sono livelli di prezzo che mettono in difficoltà la regina delle cripto volute perché al di sotto di questi livelli di prezzo ethereum andrebbe effettivamente ragazzi probabilmente diretta al minimo relativo a 83 e la cosa non è buona ragazzi perché se il mercato arriva magari a quei livelli probabilmente rompe anche il minimo indicando a quel punto un'inversione di trend di lungo periodo per la regina delle criptovalute che poi magari sarà breve quello che vogliamo però ragazzi sicuramente non è assolutamente buono quindi l'importante è chiudere questo ciclo se non è ancora chiuso e salire e fare nuovi massimi andiamo a vedere binance binance meravigliosa binance che io attendo con il mio pulsante buy quello che avete visto anche nel video della settimana scorsa l'attendo per un acquisto ma ancora non mi ha dato sicurezza non mi ha dato segnali vedete come ragiona ragazzi un trader vedete come ragiona un investitore dovete prenderlo a modello ad esempio quando c'è un qualcosa che ci piace non andiamo a comprare vedendo ogni minimo come un'occasione di acquisto altrimenti ragazzi io mi trovavo con binance coin comprata qui a 25 stavo perdendo praticamente metà del mio patrimonio assolutamente senza senso ragionare in questo modo quindi quello che è fondamentale ricordarsi è che il mercato deve dare dei segnali va bene ragazzi quindi il mio livello di alert by area per ethereum 13.8 10.8 ethereum anche questa ma l'ha toccato di poco insomma con il minimo fatto il famoso 25 ci ritornerà vedremo vedremo ragazzi allora questo è il mio livello di by area qui si attiveranno tutti i miei alert per quanto riguarda anche binance dopodiché attenderò un segnale di inversione svilupperò tutte le mie strategie le butto dentro lo dirò come sempre in academy magari anche sul canale telegram se riesco però non do consigli finanziari ragazzi quindi sapete bene che sono solo le cose che faccio io quindi dov'è il livello di resistenza per quanto riguarda binance se non arriva la by area e incomincia a schizzare sulle stelle 16.5 la prima resistenza solo al di sopra di 21.5 ragazzi 21.5 dollari inverte il trend di breve termine quindi c'è un sacco di tempo a disposizione i mercati stanno ancora riflettendo bitcoin dove andrai perché poi alla fine quello che fa bitcoin fanno anche l'altcoin tra le altre cose bitcoin è sceso meno delle altcoin in questa fase di basista come sempre dimostrando che la volatilità sul re su bitcoin è più contenuta questo per una serie di motivi eccetera ma anche mettendo in luce come questo mercato ha ancora tanta strada davanti per trovare una stabilità e una concretezza da un punto di vista finanziario quindi ragazzi siamo all'inizio questi alti e bassi questi sbalzi questi movimenti ci stanno fanno parte delle regole del gioco dobbiamo solo essere pazienti perché i mercati reagiranno come sempre la tempesta arriva dopo la quiete questa diciamo è un po' modificata dal vero proverbio dal vero aforisma però ragazzi ricordatevelo perché se i mercati sono sempre molto poco volatili a un certo punto qualcosa succederà e boom via coi giochi ci rivediamo mercoledì col prossimo video io vi auguro buon inizio settimana iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividete il video dove lo ritenete più opportuno soprattutto per dare aiuto a tutti quelli che hanno bisogno di una analisi tecnica sui mercati delle criptovalute ciao a tutti